Tanti like per Capobastone, aga gaga gaga Uè masturbatori seriali, come va? Saluti, saluti, saluti dall'egregio maestro, maestro con la M maiuscola altrimenti mi offendo Capobastone Il King di Rise of Kingdom Italia, oh lo so che avete aperto questo video con il cazzo duro no? Siete lì tutti, oh dai Capobastone facci vedere cosa hai combinato, dai facci vedere, facci vedere E adesso ve lo facci vedere, subito ve lo faccio vedere Allora ragazzi, facciamo un passo indietro e andiamo con calma Correva l'anno 2021, quindi l'anno scorso, era l'11 maggio 2021 alle ore 06.42 Io sbloccavo nella ruota Yu Sun-Sin, il mio comandante preferito della Corea Yu Sun-Sin, grandissimo difensore con il cazzo gonfio, leggendario chiaramente Quello che mi difende, mi ha difeso e mi difenderà sempre è la città L'ho sbloccato alle 06.42 di mattina perché ero talmente eccitato e arrapato Che quella mattina mi sono svegliato presto per sbloccarlo Ci ho speso un po' di gemme ma tutto è andato per il meglio Dopo aver difeso la mia città dal regno morto 1851 regno Fogna Dopo aver ucciso tanti barbari eccetera eccetera Ho finalmente oggi 9 febbraio 2022 quindi meno di un anno ci ho messo All'1.13 di notte Ho finalmente completato la sua competenza E adesso la andiamo subito a vedere Guardate qui 5.5.5.5 con competenza luna rotta Ma non è la luna che è rotta, è il mio culo che si è rotto Perché io mi sono fatto tanto di culo per sbloccare questa competenza Non vi posso neanche dire le ore passate a fare le barchette Le modalità tipo Olimpia, quelle modalità rognose Che dopo ogni volta perdevi le dovevi rifare Il tutto per avere quelle due teste, quelle due tre teste in più Un bucio di culo tanto Comunque va detto che questo comandante l'ho sviluppato Non solo grazie agli eventi Non solo grazie a Olimpia, grazie alle barchette Ma soprattutto grazie al VIP 14 Che si rivela essere il modo migliore per fare teste Quindi siccome molti me lo chiedono Ma come faccio a fare teste dorate velocemente? Non c'è altro modo se non il VIP Perché voi potete dire Sì ma durante gli eventi ne guadagno anche 12-20 Sì ma l'evento ti capita una volta Dopo per mesi sparisce il VIP Ogni giorno ti dà tre teste Il VIP 14 Se avete il 14 è il massimo ovviamente Che si possono ricevere di teste Ve ne danno tre al giorno Qualsiasi cosa succeda Sono 21 alla settimana Solo così riuscirete a completare i comandanti Altrimenti se vi basate solo sugli eventi Magari ne ricevete 20 Poi per 3-4 mesi non ricevete più un cazzo Poi ne ricevete due o tre più avanti Lasciate stare VIP 14 o niente Luna rotta stavo dicendo Quando le truppe condotte da questo comandante Contengono due o più tipi diverse di unità Ottengono un incremento dell'attacco Del 20% e del 20% della difesa Quindi tutte e due sono molto importanti Ma soprattutto la difesa Cosa si intende per due o più tipi diversi di unità? Voi lo sapete che ci sono fanteria, arceria, cavalleria Ma anche le unità d'assedio E sono proprio queste ultime importanti Perché anche loro fanno una o più unità Vengono conteggiate come unità in più Quindi se voi le avete ad esempio solo fanteria Avete Zenobia e Yusun-Sin con solo fanteria Sicuramente avrete almeno qualche unità di unità d'assedio E allora questo ve le conta come due o più diverse unità Poi sicuramente in un villaggio classico Tutti hanno tutte le unità Perché mentre le costruisci le fai Ci sono quattro baracche Quindi cosa significa? Che se voi andate nel vostro villaggio Ci sono queste quattro baracche Non è che due non le utilizzate Utilizzate solo queste Ad esempio anche io C'ho due T5, fanteria e cavalleria Ma nello stesso tempo sviluppo anche l'arceria E anche la ballista Quindi praticamente tutte funzionano E devono sempre funzionare Sempre, sempre, sempre E quindi alla fine Yusun-Sin ti dà un vantaggio enorme Se lo portate con la competenza Anzi senza competenza non vale nulla E il primo maestro di difesa l'abbiamo fatto Ora ovviamente dovremmo Il prossimo obiettivo sarà sbloccare La mitica Teodora Ma mi sono deciso che Siccome questa qui è leadership Anche lei come Yusun-Sin Mi aiuterà con il potenziamento di tutte le truppe Quindi andrò a fare molto molto di più Rispetto che avere una Zenobia Che ci si dedica di più Sulla fanteria E sulle bandiere Fortezze dove c'è solo un'unità Per tipologia Quindi praticamente cosa succede? Farò Teodora Ma ora ho una domanda Che vi voglio chiedere A questo punto, no? Una volta finito Yusun-Sin Ormai completato Cosa faccio? Posso continuare con Xiang Guglielmo Quindi fare prima uno Poi l'altro Questa è il primo La prima via che posso intraprendere La seconda via È che lascio Xiang e Guglielmo Al punto dove sono E mi dedico A Nevsky Che sarebbe Un comandante Molto potente Perché ti dà Non solo l'attacco Non solo la salute Ma anche la difesa Della cavalleria Al 20 Quindi è un animale Ti dà 20 di cavalleria In attacco 20 di salute Cavalleria In Appunto in salute E poi ti dà Altre 20% In difesa Della cavalleria Poi oltretutto C'ha molte bonus Tipo danno Bonus Abilità La primaria Fa 2003 Una cosa bestiale Capito? Quindi Questa è la seconda via La terza via È quella di Iniziare a fare L'immortale Yusun-G Che sarebbe Quello di arceria Però ovviamente È 1-1-1 Quindi non Dovrei farci Un lavoro enorme Una raccolta Di statue Enormi Per portarlo Fino alla fine E poi invece C'è una quarta strada Molto strana Quasi da psicopatico Che vi voglio Mostrare Allora La quarta strada È che Inizio a mettere via Tutte le teste Per tenerle Su Teodora Voi direte Ma è una follia Beh Voi pensateci Una volta che avrò Una coppia di difesa Potentissima Potrò Non farmi attaccare Dai rotti in culo Quindi I rotti in culo Del regno Quelli che vogliono fare I brillanti Ma tu non hai fatto Abbastanza Adesso ti attacchiamo Non ci troveranno Più davanti a Sunzi Un peso morto Ma si troveranno Davanti Yusun-Sin Con Teodora Quindi è una bella Botta Da colpire Soprattutto Se Il tizio Che protegge A tante unità E quindi Loro faranno Un sacco di morti Non solo da me Ma anche da loro Quindi La mia idea Come quarta via Non penso di farla Ma ve la volevo accennare Secondo voi Mettere via le teste Per Teodora Potrebbe essere Un'idea Secondo voi Vi chiedo Cosa fareste A questo punto Se foste in me Voi considerate Che il regno Non mi offre Sicurezza Il regno Non offre Assolutamente Sicurezza Per non essere Azzerati Questa è una cosa Fondamentale Perché se il regno Mi desse la sicurezza Di non essere attaccato Io continuerei A occhi chiusi Xeang E Guglielmo Quindi non ci sarebbe Nessun problema Ma secondo voi Cosa dovrei fare Beh scrivetemi qua sotto Ovviamente Come sempre Riempite Di commenti I video Così che magari Ne discutiamo E come sempre Venite in live Tutte le sere Dalle ore 21.05 In diretta live Su Twitch Sito superiore Capobastone Official Che ci becchiamo lì Ne parliamo E poi ne discutiamo Insieme Su cosa fare Tanti like Per Capobastone Noi ci ribecchiamo Al prossimo video E viva la focca Salute Saluti Saluti Tanti like Per Capobastone Aga gagaga